In casa mia c'è ancora qualcuno Questo fine settimana usciamo Alcuni insetti vivono un giorno Ho qualche vestito da regalare Conosci qualcuno dei suoi amici? Ogni sabato vado in discoteca Faccio un regalo a ognuno di voi Alcune di loro sono belle Qualche mese fa ho viaggiato So alcune parole in italiano C'è qualcuno che ti sta chiamando Esco ogni volta che c'è il sole Alcuni fiori perfumano molto Ho qualche bibita in macchina Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.